Questa volta vi porto con me nel punto più alto del castello di Fumone, da cui c'è un panorama mozzafiato. Sapevate che proprio qui c'è il giardino pensile più alto d'Europa, pieno di alberi di alloro e di cipressi secolari? Tra questi, pensate un po', due alberi che si sono uniti nel corso del tempo. Ah, l'amor! E non è finita qui! Se avete bisogno di un po' di fortuna, non potete non lanciare una monetina nella cavità del Pozzolo e Desideri e calpestare ripetutamente il punto più alto del monte, questa pietra! Fate come me, tanto si sa, la fortuna non è mai troppa! Ciao!